L'approdo che stai cercando è lo stesso dei popoli navigatori che sin dall'antichità si contendevano il dominio del tirreno meridionale. Sono queste isole meravigliose che spuntano dal mare di Sicilia e si rivelano al tuo sguardo nella loro affascinante diversità selvagge e aride alcune, rigogliose e accoglienti altre ma tutte condividono la stessa natura. Sono la parte emersa di un unico complesso vulcanico sottomarino le cui sommità cominciarono a innalzarsi dai fondali profondi di questo mare circa un milione di anni fa. Di quegli estinti fatichi a riconoscerne la forma degli altri scorgi già da lontano l'incessante attività che per più di due secoli è stata oggetto delle ricerche di geologi di tutto il mondo. Quella dell'isola di Vulcano, antica dimora del dio del fuoco per i romani scenario naturale distruggente bellezza per i tuoi occhi e quella di Stromboli, gigantesco cono vulcanico in perenne attività le cui esplosioni ininterrotte sono state un faro naturale per le imbarcazioni e oggi sono un richiamo irresistibile per gli escursionisti e i vulcanologi. che risalgono questa montagna per assistere da vicino a uno spettacolo naturale di rara potenza per ammirare nell'oscurità il bagliore rosseggiante delle eruzioni per ascoltare nel silenzio assoluto della notte lo sfrigolio del torrente di pietre roventi che scende verso il mare Manifestazione esemplare del vulcanismo terrestre Sublime finestra sul profondo del pianeta che il mondo ha eletto a simbolo universale Isole eonie Siti italiani del patrimonio mondiale UNESCO Patrimonio dell'Italia Eredità per il mondo Grazie 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 Grazie